La novità letteraria che ti presento è il libro giallo, autoconclusivo, ma terzo di una serie di gialli con protagonista la regina Elisabetta II, nei panni di investigatrice privata, ma il prezzo della verità potrebbe essere troppo alto, anche per una regina. La trama del libro Un omicidio molto reale, di S.J. Bennett, è la seguente. Mancano pochi giorni a Natale e la regina Elisabetta II attende di celebrare le festività in famiglia, come da tradizione, nella tenuta reale di Sandringham e i traccene con figli, nipoti e pronipoti e serate trascorse davanti al fuoco, le vacanze sono da sempre un momento atteso, lontano dall'etichetta e dagli obblighi di corte. Un evento improvviso interrompe però bruscamente l'idiglio, una mano mozzata viene ritrovata poco lontano dalla dimora reale e la sovrana riconosce subito l'anello con sigillo infilato il dito, si tratta dello stemma dell'illustre famiglia St.C.Y.R., amici di vecchia data dei reali. Quando il nome della sovrana viene, suo malgrado, coinvolto nell'oscura vicenda, Elisabetta deve intervenire, e lo fa, come sempre, a modo suo, insieme alla fedelissima assistente Rozzi indossa i panni di investigatrice privata, decisa a far luce sulla vicenda. Anche se risolvere il mistero potrebbe significare scoprire che qualcuno della sua cerchia più ristretta è un assassino. Il terzo brillante capitolo di una serie di gialli che ha come protagonista la sovrana, detectiva appassionata, ricca di acume e ironia. Grazie per l'attenzione. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato, se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.